Amore, me porti una birra? Come si dice, amore? Me porti una birra in fretta, cazzo? Ma no, per... Per berla, no? Sei bellissima! Cosa? Sei bellissima! Cosa? Tu, sei bellissima! Ti volevo chiedere! Cosa? Ma è l'affanculo, oca! Che cazzo... Ciuccio le palle ai barboncini... Ma no! It's been a long day... Ti sembra un barboncino per caso? No, spiegamelo! Ma tu guarda! Il telefono di Ame! Amore! Chi cazzo è questa? Ok, Ame ti ha stampato, devi pensare in fretta, inventa una scusa, muoviti! Allora? Chi cazzo è? Muoviti, così si insospettisce, pensa a qualcosa, di qualcosa! Gocciole! Gocciole? Ma che cazzo ti dice il cervello? Con la nutella! Scusa, perché questa puttana ti ha messo mi piace all'immagine del profilo? Eh, amore, c'ho 3000 mi piace, è normale che ci sia anche dentro qualche ragazza. Eh, però dopo anche tu gliel'hai messo, vedi? Ma cosa c'entra? Ma perché è una mia amica? Eh, una tua amica. Tutte tue amiche sono qua, 200 amiche c'hai. No, vorresti dire che c'ho 200 amanti? No, ma... E allora? Tu non devi mettere mi piace alle... Ma tu non sei normale! Tagga la tua ragazza. Farsi mollare è gratis. Tagga la tua ragazza. Tagga la tua ragazza. Grazie.